Al via d'oggi la festa dell'olio a Lucca Sicola giunta alla sua ventitresima edizione, stamattina all'inaugurazione alla presenza delle autorità civili, religiose e militare e degli studenti di ogni ordine e grado. Per tre giorni Lucca Sicola diventa quindi il punto di riferimento per la promozione, diffusione e commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, un olio di qualità e dalle ottime proprietà organolettiche riconosciute da tutti gli esperti del settore. La festa dell'olio che riparte dopo due anni e di stop dovute alla pandemia da Covid-19 prevede una tra i giorni di degustazioni di olio novello e prodotti tipici del territorio, ma anche momenti musicali, sfilate di auto e moto storiche, artisti di strada e stemporanei di pittura, visite guidate ai frantoi e approfondimenti culturali. Due convegni in programma, il primo oggi pomeriggio denominato Olio Turismo, il turismo dell'olio d'oliva, con protagonista l'olio di Lucca Sicola, le sue proprietà e i abbinamenti culinari alla presenza dei referenti dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, a cui Lucca Sicola ha aderito qualche mese fa. Il secondo convegno domani pomeriggio per festeggiare i 400 anni dalla fondazione del piccolo comune montano con diversi momenti di folklore e letterari. E entrambi gli appuntamenti si terranno all'interno di Palazzo Locascio, in piazza Vittorio Emanuele invece la mostra mercato e gli stand dei produttori del territorio. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Dazzo, che ha ricevuto in merito un finanziamento da parte della regione siciliana. Tutti gli appuntamenti in programma e le degustazioni sono ad accesso gratuito. Comunità lucchese che quindi invita tutti a prendere parte all'interessante sagra per scoprire il sapore del proprio olio, elemento principale dell'economia e le bellezze naturali e architettoniche del comune sicano. Torneremo a parlare della festa dell'olio di Luccasicola domani con ulteriori servizi e poi con uno speciale RMK Notizia.